Era arrivato addirittura a dedicarle serenate in stile rap sotto la finestra di casa, ma questo slancio romantico, passato in fretta all'invadenza fino a sfociare in stalking vero e proprio, è costato caro a un bresciano di 19 anni condannato a sei mesi di reclusione. I fatti risalgono allo scorso anno, il ragazzo si innamora perdutamente di una ragazza piacentina che frequenta la sua stessa scuola e di un anno più giovane. All'inizio lei sembra apprezzare il corteggiamento, quando però fa capire di non volerne più sapere inizia un vero e proprio assedio fatto di sms, telefonate, messaggi in chat, canzoni e puntatine sotto casa, un atteggiamento divenuto presto insopportabile e che ha spinto i genitori della giovane a sporgere denuncia. Questa mattina l'udienza preliminare di fronte al GIP Giuseppe Bersani e al pubblico ministero Emilio Pisante, il ragazzo difeso dall'avvocato Filippo Corvi del Foro di Piacenza ha optato per il patteggiamento, sei mesi di reclusione la condanna per stalking con pena sospesa.